Scegli oggi il tuo domani. Ciao sono Jessica, mi sono laureata in scienze del turismo presso l'Università degli Studi dell'Insubria nel 2009. Poco prima di laurearmi, grazie all'università, ho iniziato uno stage in ConfCommercio Como, l'associazione maggiormente rappresentativa delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Como. Oggi sono felice e lavoro in ConfCommercio Como come responsabile del settore turismo, quindi seguo tutte le attività della filiera del turismo associate a ConfCommercio Como, quindi imprese alberghiere, extra alberghiere, agenzie di viaggio, guide turistiche, pubblici esercizi. Il percorso universitario mi è servito tantissimo nel mondo del lavoro, sia per tutte le competenze acquisite, sia per le moltissime esperienze che si possono fare grazie all'università.